Nuovo allenatore per la Juve Stabia, le Vespe si affidano a Leonardo Colucci, nato a Cerignola il 29 dicembre del 1972 e reduce dall'esperienza al Picerno ed allenato anche a Ravenna, Vispesero, Pordenone e Reggiana tra le altre, oltre ad aver guidato l'Under 17 e l'Under 19 del Bologna. Da calciatore ha vestito le maglie di Cerignola, del Siracusa, della Reggiana, del Bologna, della Lazio, dell'Ellas Verona, del Cagliari, della Cremonese e del Modena. Bruno Caneo potrebbe invece essere il nuovo tecnico del Pescara, l'allenatore ex-Turris piace molto al club abruzzese. Nuovo trainer in arrivo anche in casa a Campobasso, Fabio Prosperi, ex allenatore del Taranto, è pronto a prendere il posto di Mirko Cudini che ha salutato la compagine molisana. Prosperi ha allenato il vasto Girardi in D, Alberto Colombo ha lasciato il Monopoli e si potrebbe accordare con il Foggia di padron canonico, mentre i propri gabbiani potrebbero affidarsi nuovamente a Giuseppe Scienza. La Fidelisandria, che si è salvata al fotofinish, starebbe pensando di affidare la sua panchina ad Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, che piace anche a Lecco e Seregno, pian piano si va componendo il quadro delle panchine del gruppo C.